Moto Morini, dopo un lungo e travagliato percorso fatto di alti e bassi, interrotto dalla chiusura e dalla successiva acquisizione nel 2018 da parte cinese, è tornata a essere protagonista nel panorama motociclistico internazionale. L'azienda ha ripreso a produrre moto di qualità, conquistando nuovamente una parte di mercato con modelli innovativi e performance di rilievo. Tuttavia, come per qualsiasi grande storia, è fondamentale conoscere le proprie radici per comprenderne appieno la forza. Come ha detto lo stesso Alfonso Morini, chi dimentica il passato non ha futuro. Per questo, oggi raccontiamo la storia di Alfonso Morini, l'uomo che ha fondato il Marchio e che con la sua visione ha saputo trasformare un sogno in realtà, scrivendo una pagina importante della storia del motociclismo italiano. Benvenuti alla prima puntata di Vite su Ruote, il podcast che racconta le storie straordinarie dei protagonisti del mondo dei motori. Visionari che hanno lasciato il segno sulla strada e nella storia, con imprese che continuano a ispirare generazioni. Il nome di Alfonso Morini risuona nell'ambito motociclistico come quello di un pioniere, un inventore tenace e geniale. Nato a Bologna nel 1898, sin da giovane manifesta un talento naturale per la meccanica e un istinto visionario che lo condurrà, tra sfide e trionfi, a dare vita a uno dei marchi più amati d'Italia, Moto Morini. La sua dedizione instancabile, unita a un approccio innovativo e spesso anticonvenzionale, ha reso possibile non solo la fondazione di un'azienda iconica, ma ha contribuito a consolidare l'eccellenza italiana in un settore competitivo e in continua evoluzione. Alfonso Morini inizia il proprio percorso lavorativo all'interno dell'officina dei fratelli Mazzetti, dove apprende i primi rudimenti della meccanica e, soprattutto, sviluppa un profondo rispetto per l'arte artigianale. Ma il suo spirito ambizioso non può essere confinato in un ruolo subalterno, ben presto sente il bisogno di mettersi in proprio. È così che nel 1937 nasce Moto Morini, una piccola officina bolognese destinata a lasciare un segno indelebile nella storia della moto italiana. I primi modelli che produce sono agili e robusti, ideali per le strade dell'Italia di allora, e in breve tempo raccolgono consensi in ambito sportivo. Le vittorie conquistate in competizioni locali, pur modeste all'inizio, segnano i primi passi verso la notorietà del marchio. L'anno cruciale del 1953 segna il debutto della moto Morini 175, una moto leggera progettata per affrontare sia le strade che i circuiti. La 175 si distingue immediatamente per la qualità delle sue prestazioni, è una moto moderna, dotata di accensione a spinterogeno e cambio a quattro rapporti, un veicolo che, nelle mani dei piloti giusti, può dominare le competizioni. È con la 175 Sport, nota come settebello, per il suo carisma sportivo e inconfondibile, che la moto Morini si guadagna una reputazione duratura, grazie a Emilio Mendogni, un giovane e talentuoso pilota che Morini stesso ha saputo scoprire e valorizzare. Nel 1953, Mendogni trionfa a Monza e Barcellona nella categoria 125, portando a casa il titolo di campione italiano e consacrando la moto Morini sul palcoscenico nazionale. Nel cuore di moto Morini pulsa una realtà familiare, costruita attorno al rispetto reciproco e alla passione comune per la meccanica. Alfonso Morini sa come motivare e ispirare i suoi collaboratori, che considera come una famiglia. Ogni lavoratore è trattato con rispetto e ogni singolo dettaglio produttivo è supervisionato con una meticolosità quasi maniacale. Moto Morini non è soltanto un'azienda, è un microcosmo, un'officina dove la cultura del lavoro si esprime in ogni gesto e ogni sguardo. Un luogo in cui il lavoro manuale e l'ingegno meccanico si fondono per dare vita a motociclette dalle prestazioni straordinarie. La fiducia e il rispetto che Morini ispira nei suoi collaboratori sono evidenti anche nei momenti di difficoltà. Quando l'azienda è costretta ad affrontare sfide economiche e tecniche, i lavoratori rispondono con un impegno e una dedizione che va oltre il semplice senso del dovere. È un legame umano, un'etica condivisa che permette alla moto Morini di sopravvivere e prosperare anche nelle fasi più critiche. Con il crescere della domanda, l'officina di Via Berti non basta più. Morini, che non perde mai di vista il futuro, pianifica e realizza un nuovo stabilimento in Via Oslavia, esteso su due piani e su una superficie di 10.000 metri quadri. È il 16 settembre 1956 quando la nuova sede viene inaugurata in grande stile, alla presenza di figure di rilievo come il cardinale arcivescovo Giacomo Lercaro e il ministro delle poste e telecomunicazioni Giovanni Braschi. È un momento di grande orgoglio per Morini, che in quell'occasione si esprime in un italiano formale, mettendo da parte il dialetto bolognese per sottolineare l'importanza dell'evento. Moto Morini non è più solo un'officina artigianale, è diventata una realtà industriale che contribuisce al prestigio nazionale. L'evoluzione della gamma Moto Morini è continua, così come il successo sui circuiti. Nel 1955 il modello Rebello, un'altra straordinaria creazione trionfa al motogiro d'Italia, con un podio completamente conquistato dai piloti della moto Morini Mendogni Primo Speziali, secondo Mattei III. Anche alla Milano Taranto la Rebello si distingue, con prestazioni che consolidano ulteriormente la fama della casa bolognese. La gamma di modelli si amplia per rispondere a una clientela sempre più vasta, dal sbarazzino di 98cc ai modelli Briscola Turismo, Gran Turismo e Supersport, fino al già celebre Settebelle. Alfonso Morini non è soltanto un grande imprenditore, è anche un uomo che sa riconoscere il valore dei talenti che lo circondano. Fra i suoi collaboratori spiccano figure come Nerio Biavati, un abile progettista in grado di trasformare idee in motori completi e funzionanti, Walter Scagliarini, esperto di assemblaggio e responsabile del reparto corse, e Carlo Lugli e Gino Marchesini, designer che contribuiscono allo sviluppo delle moto da turismo. Grazie a questa squadra affiatata, Moto Morini è in grado di rispondere alle nuove sfide con prontezza ed efficienza. Nel 1958 l'azienda lancia la 250 Corsa, una moto da gara bialbero che rappresenta il culmine dell'ingegneria di quegli anni. Dotata di distribuzione a doppio albero in testa e una potenza di 29 cavalli a 10.000 giri al minuto, la 250 si dimostra subito competitiva. Piloti come Mendogne e Zubani conquistano vittorie prestigiose, portando Moto Morini ai vertici del motociclismo italiano e internazionale. L'impegno della casa bolognese nelle competizioni è assoluto e i risultati non tardano ad arrivare. Un episodio che ben rappresenta la determinazione e il carattere indomito di Alfonso Morini risale all'inverno del 1954-55 quando la Federazione Motociclistica Italiana decise di introdurre un nuovo regolamento per le motosport derivate di serie. In una serie di riunioni tecniche tenute presso l'ANCMA si discusse di vari aspetti regolamentari tra cui la questione della distribuzione. Mentre la maggior parte dei costruttori si dichiarava favorevole a una limitazione alla distribuzione monoalbero Morini che stava lavorando sulla sua nuova moto, il Rebello voleva estendere il limite al Bialbero. Dopo una lunga discussione in cui non riuscì a far prevalere la sua posizione Alfonso si alzò e uscì dalla sala. Poco dopo rientrò indossando un cappotto color cammello e con un gesto teatrale puntò l'indice verso la sala dichiarando sapete mo cosa vi dico io? Che io sui miei motori ci metto un albero, due alberi, una foresta se mi pare e con un sorriso chiuse la porta e se ne andò. Questo episodio che ben sintetizza il suo spirito indomito e la sua visione rivoluzionaria divenne leggenda. Gli anni 60 segnano l'apice della notorietà per moto Morini ma anche l'inizio di una fase di riflessione. Nel 1963 l'azienda perde per un soffio il titolo mondiale contro la Honda, un colosso giapponese dalle risorse immense. Questo episodio segna per Alfonso Morini un momento di consapevolezza. La competizione con i giganti asiatici richiede investimenti e risorse che moto Morini non può sostenere. Tuttavia l'azienda continua a innovare lanciando modelli come il Corsaro 150 Gran Turismo e il Settebello GTI mantenendo viva la passione per la qualità e le prestazioni anche in un contesto di crescente concorrenza. Gli anni dal 1966 al 1968 segnarono il periodo in cui l'invadenza delle motociclette giapponesi divenne davvero difficile da ignorare. Non solo nel comparto sportivo dove marchi come Honda, Yamaha e Suzuki raccoglievano sempre più successi nelle competizioni internazionali ma anche nel mercato delle moto da turismo dove le case giapponesi iniziarono a conquistare fette sempre più ampie di mercato. Moto Morini con una gamma di prodotti che rimaneva pressoché invariata si trovò a fronteggiare una concorrenza spietata ma non si arrese. Il corsarino Scrambler arricchiva la già celebre produzione ma il reparto corse si concentrava soprattutto sulle gare italiane relegando la scena internazionale al dominio incontrastato dei rivali orientali. In un'epoca in cui l'innovazione correva a velocità inaudite Alfonso Morini seppur ormai più avanti negli anni non si rassegnò. L'ingegno che gli aveva permesso di inventare il bialbero nel dopoguerra non abbandonò la sua mente. Nonostante la potenza dei giapponesi continuò a lavorare sul motore della sua 250 bialbero realizzando delle versioni innovative con motori a 3 e 4 valvole. Quella tenacia, quella voglia di non fermarsi mai lo portò a rivisitare vecchi modelli e a creare nuove soluzioni tecniche pur senza riuscire a competere con la potenza industriale dei nuovi colossi del motociclismo mondiale. In questo contesto la moto Morini si avvaleva del pilota Angelo Bergamonti che portava la bandiera del marchio con onore. Nel 1966 con la sua 175 vinse il campionato della montagna, mentre il compagno di squadra Peronio si aggiudicò il titolo Juniores. Un anno dopo Bergamonti si classificò secondo con la 175 nel campionato della montagna e primo con la 250 nel campionato velocità Seniores. La squadra di regolarità, composta da Collina, Dossena e Gritti dominava le gare di classe 100 negli anni 1967 e 1968. Tuttavia questi successi sportivi non riuscirono a fermare la crisi che incombeva sull'azienda. Il 1968, un anno storico per il mondo intero, non risparmiò neanche la moto Morini. Le manifestazioni di piazza e il 68 scuotevano profondamente la società italiana e con essa le dinamiche interne alla moto Morini. Le agitazioni sindacali e lo autunno caldo portarono a scioperi e disordini che interferirono pesantemente con la produzione. La stabilità dell'impresa vacillava, le difficoltà di approvvigionamento e la crescente difficoltà nell'incontrare le scadenze di consegna minarono la solidità dell'azienda, mentre i rapporti tra proprietà, impresa e operai si deterioravano. Morini, pur forte del suo carisma e della stima che tutti riponevano in lui, lottò strenuamente per contenere i danni, ma la confusione, il disordine e la fatica quotidiana stavano prendendo il sopravvento. Nel 1969 il corpo di Alfonso Morini, ormai indebolito dallo stress e dalla malattia, cominciò a dare segnali di cedimento. Nonostante fosse ricoverato nella clinica Villa Erbosa per curarsi, egli mostrava una determinazione incrollabile, dichiarando che stava bene e che voleva tornare subito al lavoro, ma la sua vitalità fu spezzata in modo improvviso. Il 30 giugno 1969 la morte lo colse mentre era ancora in cura, lasciando un vuoto incolmabile non solo per la moto Morini ma per l'intero mondo del motociclismo. Dopo la morte di Alfonso Morini, l'azienda passò sotto la guida della figlia Gabriella, che pur laureata in legge, tentò di preservare la tradizione e la continuità del marchio. Tuttavia la stima e l'affetto che circondavano la figura di Alfonso Morini non bastarono a mantenere intatto il valore della sua creatura. I fedelissimi si fecero interpreti di questa continuità, ma il vuoto lasciato dal fondatore sembrava impossibile da colmare. Moto Morini tentò di andare avanti. Il corsarino e i suoi derivati furono prodotti fino al 1972, ma iniziative come il ciclomotore dollaro e le bicilindriche 3,5 non ebbero lo stesso impatto che aveva avuto la produzione precedente. Morini continuò comunque a distinguersi nel mondo sportivo, con la 175 che rimase una delle moto più agguerrite nelle gare di regolarità e salita, fino a ben oltre il 1974. Gli anni successivi furono segnati da una crescente difficoltà a rimanere competitivi. Le moto fuoristrada come il Camel 1500 e il Canguro 350, introdotte nel 1982, non riuscirono a risollevare la situazione. Nel 1984 l'ultima evoluzione della linea 3 e mezzo, il modello K2, sembrava l'ultimo tentativo di rivitalizzare un marchio che faticava a tenere il passo con i rivali italiani e soprattutto con quelli esteri. Quando nel 1987 il marchio fu ceduto al gruppo Ducati Cagiva, la moto Morini subì quella che sarebbe stata definita un'ibernazione. Sebbene i diritti sul marchio rimanessero con Ducati, la produzione venne interrotta e la moto Morini fu esclusa dal programma di sviluppo. Molti anni dopo il viandante che si fermasse a osservare il vecchio stabilimento della moto Morini a Bologna avrebbe avuto una sensazione malinconica. I muri erano ancora integri, ma screpolati. I vetri rotti e gli infissi arrugginiti sembravano testimoniare il lento e inesorabile abbandono. Dove erano finiti gli operai, i tecnici, i corridori in cerca di assistenza? Dove i camion che partivano pieni di motociclette dirette verso le destinazioni più lontane? E che fine aveva fatto la passione che animava quel luogo? La stessa passione che Alfonso Morini aveva saputo infondere nella sua azienda. In realtà quella scena rifletteva un quadro più ampio Bologna, come molte altre città italiane, stava cambiando. Le industrie sopravvivevano a fatica, molte divennero proprietà estere, mentre altre chiusero i battenti. Le grandi motociclette italiane, come quelle della Ducati, sopravvivevano a metà. Il mercato internazionale era dominato dai marchi giapponesi e la produzione italiana si concentrava ormai principalmente su ciclomotori e scooter. Se fosse ancora vivo Alfonso Morini non avrebbe mai abbandonato il suo posto di combattimento, perché lui, come il marchio che ha creato, non avrebbe mai accettato l'idea di arrendersi. La figura di Alfonso Morini rappresenta un modello di imprenditore d'altri tempi, capace di combinare rigore tecnico e passione artigianale. La sua dedizione al lavoro, la sua capacità di ispirare e guidare i suoi collaboratori e la sua resistenza di fronte alle difficoltà hanno creato una cultura aziendale unica, fondata su valori di lealtà, rispetto e innovazione. L'uomo non si limita a costruire motociclette, è un mentore, è una figura paterna per molti dei suoi collaboratori. La sua generosità verso gli operai, il rispetto verso i meccanici e la devozione verso la sua azienda fanno di lui una figura rispettata e amata. Anche dopo la sua scomparsa Morini rimane nel cuore degli italiani, come il creatore di una moto che ha fatto sognare intere generazioni.